E' sempre più il Nardò a Mazzagrandi. Anche la capolista Lavello cade al Giovanni Paolo II nel turno infrasettimanale di Serie D, con i Salentini che si impongono 2-0 grazie alla doppietta di potenza. I Lucani invece perdono la vetta del girone H e dopo lo 0-0 di domenica contro il Gravina, rimangono a secco per la seconda partita di fila. Danucci sceglie il 4-2-3-1 con potenza davanti al trio di fantasisti, composto da Caputo, Massari e la macchia. Stesso modulo per Zeman, che sia Nardò, che dopo 9 minuti mette già i brevidi al portiere ospite Franetovic. Potenza va via sulla sinistra, incrocia sul secondo palo, ma non inquadra lo specchio. Caputo ci prova metà frazione dopo essersi liberato di due difensori, ma strozza il mancino a tu per tu con l'estremo avversario. Il Lavello si affaccia dalle parti di Milli, Stranieri alza il muro sugli urni, Bursio calcia fuori dopo una bella incursione di Longo. Poca roba e i padroni di casa ne approfittano. Potenza è imprendibile a sinistra, sterza sul destro in piena area e Zullo lo stende, calcio di rigore con i salentini che chiedono l'espulsione senza ottenerla. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Potenza che spiazza Franetovic e firma l'1-0 al 38esimo. Piove sul bagnato per gli ospiti, prima dell'intervallo Giunta si fa monire per la seconda volta e lascia i suoi in inferiorità numerica. Prima dell'intervallo la macchia sfiorerà a doppio su gran cross di Potenza. Nella ripresa Zeman ridisegna la squadra sotto di un gol e di un uomo, ma al 51esimo è già partita chiusa. Gioco di gambe di Potenza, destro Fulminio e Franetovic battuto per il 2-0 del Nardò. Sembra la mazzata decisiva, il Lavello però ci prova con una reazione di Herrera, che in area trova il varco giusto e mette in rete, ma l'assistente annulla per fuori gioco. Squadra di Danucci comunque in pieno possesso del gioco, il Lavello passa a 3 in difesa e si aprono le praterie sugli esterni. Lezzi scappa alla retroguardia Lucana, ma Franetovic è decisivo. Occasione anche per Massari, che fallisce il 3-0 da ottima posizione. L'ultimo squido dell'ormai ex capolista è ancora di Herrera, che da limite calcia alto, mentre Cancelli dall'altra parte impegna Franetovic da fuori area. Nel finale il Nardò amministra e si gode alla passerella. Il Lavello si rassegna al KO, finisce 2-0 dopo 5 minuti di recupero. I Salentini ottengono il quinto risultato utile consecutivo e tornano soltanto ad un punto dalla zona playoff, in attesa ovviamente dei recuperi per l'emergenza Covid. I Lucani invece lasciano il primo posto.